Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video, video macchina, benissimo. Allora, video altamente improvvisato perché ci ho pensato adesso farlo e siccome devo stare appunto un po' di tempo in macchina ho detto beh ma vogliamo approfittare. Non ho gli occhiali, non mi sono portato neanche la Bibbia, quindi ho la Bibbia che normalmente ho in macchina che è veramente piccolissima. Non so come farò a leggerla ma il Dio mi aiuterà. Bene, comunque l'oggetto è un po' di tempo che ce l'ho nel cuore e comunque sarà un po' tutto improvvisato. Allora, vorrei parlare, già l'ho detto, che ho nel cuore di parlare della porta delle pecore. La vogliamo vedere sia da un punto di vista dottrinale che da un punto di vista storico. Allora, siamo a Gerusalemme, duemila anni fa, il Signore Gesù Cristo andava, diciamo, da buon giudeo che era, ok? Allora, almeno normalmente si andava tre volte l'anno perché c'erano le sette festività che la legge prevedeva delle quali tre erano obbligatorie. Bene, quando si andava in Gerusalemme c'erano diverse porte. Interessante notare che Gerusalemme nasce perché conquistata, conquistata nello specifico dal re Davide, dal re Davide. Passa per una infinità di vicissitudini. Gerusalemme ha dovuto passare molte, molte guerre, molte distruzioni. E' stata distrutta e ricostruita molte volte, è stata attaccata molte volte, decine di volte e così via discorrendo. A un certo punto noi leggiamo che in Neemia si concretizza la ricostruzione di Gerusalemme, delle mure e quant'altro. E queste mura vengono nominate. E in Geremia troviamo che una di queste porte si chiamava la porta delle pecore. Si chiamava la porta delle pecore perché in quella porta facevano entrare le pecore. Interessante questo. Era una porta un po' particolare perché storicamente parlando noi sappiamo che per questa porta entravano sostanzialmente le pecore e ci facevano entrare i gentili e quando sappiamo che per quella porta se ne guardavano bene di entrare coloro che stavano in alto. Per esempio i farisei, i saducei, gli scribi, tutti costoro non entravano per quella porta perché loro erano i grandi, erano quelli che guardavano gli altri dall'alto al basso, erano quelli che ieri e ancora oggi non ti davano la mano, anche se eri ebreo, perché altrimenti, come dire, li contaminavi e così via discorrendo. E quindi normalmente per quella porta non ci passavano. Mentre invece ci manca gli ebrei di un certo tipo, ovvero quei ebrei che erano immaginati, che erano zoppi, che in qualche maniera erano indegni, o per un motivo o per un altro, o perché non venivano considerati, perché erano proprio l'ultimo dell'ultimo dell'ultimo, allora passavano per quella porta. Interessante questa porta delle pecore, vero? Ma c'è anche dell'altro, ora io sto andando un pochino a ruota libera, tutto a memoria, perché sono un po' qua, sono lontano dalle mie zone, sulla Tuscolana, no sulla Tuscolana, sulla... che via è questa? Già mi sono scordato. Sulla Giannicolense. E non c'entra niente la Tuscolana, vabbè, ho dato i numeri. E quindi, scusate, e... Questa porta, praticamente, da stare verso il Tempio, sbucava sull'atrio, sull'atrio dove c'erano i gentili. E non c'erano solamente i gentili, c'erano anche i cambiamonete. Vi ricordate quell'episodio che c'è la famosa diatriba? Se il Signore Gesù avrebbe buttato via, diciamo, le banconote, le monete, i tavoli, no? Se l'avrebbe fatto una volta o due volte? Benissimo, al di là se è stata una o due, ora questo a noi non ci interessa. Però, diciamo che questo posto qua si trovava proprio adiacente, appunto, la porta, ok? La porta delle pecore. Quindi c'era questa strada, questa stradina, che portava nella porta delle pecore, che già abbiamo visto che ci passava, e poi si entrava verso il Tempio. E appunto si portavano le pecore, che poi avrebbero, come dire, sarebbero servite da, diciamo, da Corban, da Corban all'Eterno. Interessante notare questo. A un certo punto, in questo contesto storico, il Signore Gesù si rivolge, appunto, al suo popolo. Quindi al popolo di Israele. Noi dobbiamo sempre pensare che quando il Signore Gesù parlava, parlava al popolo di Israele, fisicamente. Però noi sappiamo che non solo parlava a lui, ma parlava anche alla sua Chiesa, perché lui sapeva che noi saremmo venuti, perché noi siamo il suo disegno. Tant'è che lui ebbe a dire, io non ho solo questo greggio, ma ne ho anche un altro. Quindi quelle parole che il Signore ha detto al suo popolo, rivolgendosi al suo popolo, comunque sono anche per noi, sono parole per noi, sono state dette anche per noi. Questo lo comprendiamo dal contesto. Ebbene sì. Quindi ci troviamo in Giovanni, capitolo 10. Molto interessante. Bene, vediamo un pochino se io riesco a leggere, senso occhiali, con la Bibbia che ha i caratteri di 3 mm. Signore, aiutami, Dio santo, non vedo un'acca. A Roma si dice un'acca. Allora, in verità, in verità, io vi dico che non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte quello è un ladro o un brigante. Quindi il Signore Gesù, qui, da quello che io vi ho appena descritto, ha lanciato una tremenda indiretta. Cioè, ha detto, chi non entra per la porta delle pecore, lui lancia un esempio fisico reale. Cioè, lui veramente sta parlando della porta delle pecore che esisteva duemila anni fa. Una porta reale, scusate l'ambulanza. D'altronde qua vicino non ci sono più avanti degli ospedali. Quindi lui sta parlando letteralmente e nel parlare letteralmente, che ovviamente abbraccia anche il discorso spirituale, ma lancia una indiretta paurosa, perché lui dice chi non entra per la porta delle pecore e lui entrava per la porta fisicamente delle pecore. Ma chi entra per un'altra porta, cioè i Sadducei, i Farisei, gli Scribi, non entravano per quella porta, ma entravano per le altre porte. Bene, loro sono dei ladri, sono dei briganti, no? È un brigante. Quindi il Signore Gesù lanciava delle indirette incredibili e quindi praticamente davanti a tutti quanti dava ai Farisei, ai Sadducei, agli Scribi, gli dava dei ladri e dei briganti. A proposito, Gesù aveva amore? Oh sì, certo, Gesù è l'amore, ma l'amore dice la verità. cioè se tu sei un ladro, se tu sei un brigante, se tu sei un mascalzone, l'amore te lo dice, tu sei un mascalzone, tu sei un brigante, tu sei un soppiantatore, un ingannatore del popolo, assolutamente, sei uno che mente, e questo è molto importante. Quindi il Signore Gesù Cristo fa proprio questo. Incredibile. Vedete il contesto storico quanto è importante? Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. Quindi quando lui fa questa allusione, la fa nelle porte delle pecore. A lui apre il portinaio, il portinaio. Chi è il portinaio? Le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Lui apre il portinaio. Quindi c'è un portinaio. Simbolicamente sarebbe interessante capire chi sarebbe questo portinaio. A chi allude, no? E qui ci si potrebbe soffermare, ma adesso non fa parte dell'oggetto. Ok? Quindi a lui apre il portinaio e vediamo se riesco a leggerlo. E quando ha fatto uscire le sue pecore va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Quindi comincia appunto a fare questo discorso qua. Appunto, le pecore conoscono la sua voce. Quindi le pecore ascoltano la voce di Cristo. Gli interessa la voce di Cristo. Quindi gli interessa la parola di Dio. Gli interessa quello che è scritto. E gli interessa non mentire. Quindi quando noi vediamo qualcuno per venire ai nostri giorni che mente e mente anche nei confronti del prossimo come dice Proverbi 10 chi mente ha odio e chi odia mente noi sappiamo che costui non è uno che ascolta le parole no? Signore. Andiamo avanti. E quando ha fatto uscire le sue pecore va davanti a loro e le pecore già l'ho letto scusate ma io non ci vedo. non ne non vedo un H non seguiranno però alcuno da Lui perché non conoscono la voce degli estranei. Quindi noi ci meravigliamo che le persone seguono gli estranei. Perché li seguono? Perché non conoscono la voce del del Signore perché in loro fondamentalmente c'è il peccato c'è tanto peccato voglio fare un esempio pratico una persona ha scritto sotto un video di Acabe e Isebel il butindarino di turno lo so avertire il popolo e denunciare a spada tratta i butindarini ha scritto chi è questo riferendosi a me come si chiama qual è il suo nome lei è stato detto il suo nome è Alessio Evangelisti benissimo grazie dopo qualche giorno sempre questa stessa persona scrive ah io questo anni fa lo scorsa che non andava ma come fino a due giorni fa non sapevi neanche come mi chiamavo vedete torno al come vera la parola di Dio quando c'è il peccato nelle persone le persone non ascoltano la parola di Dio non gli interessa ora io ho portato questo esempio qua e gli esempi potrebbero essere mille attenzione attenzione perché molti sono ammaliati dalle cattive dottrine proprio per il peccato perché vivono il peccato ora può essere qualsiasi cosa vivere la menzogna e vivere il peccato attenzione alla menzogna perché poi come dici la menzogna nella vita la dici anche nei confronti della parola biblica quando tu la illustri perciò Gesù disse loro di nuovo in verità in verità io vi dico io sono la porta delle pecore ma lì il Signore Gesù Cristo si trovava se non si trovava lì in quel momento comunque ci si è trovato un miliardo di volte si trovava nella porta delle pecore e quando usciva fuori per quella porta si trovava nell'atrio dei gentili in mezzo ai gentili e dove è cresciuto il Signore Gesù in Nazareth la contrada dei gentili quante cose e da bambino dove è stato in Egitto quindi il Signore Gesù ha avuto sempre nel cuore il desiderio di salvare tutta l'umanità non solamente un gruppo di eletti chiamati ebrei no ma salvare tutti quanti però partendo dagli ebrei quindi non esiste la predestinazione infatti io non candarini vedi a cab e i zebel prima dicono me lo hanno detto a me ah noi crediamo alla predestinazione poi vengo a sapere che da altre parti l'hanno negata quindi vedete che prima si dice una cosa poi se ne dice un'altra poi si è religiosi in un posto poi si diventa religiosi in un altro posto e così via discorrendo poi mi dicono a me Alessio Evangelisti è un settario però se qualcuno gli dà del settario a loro lo denunciano alle autorità competenti vedete questo si chiama peccato Gesù Cristo denunciava il peccato dalla mattina alla sera e io faccio la stessa cosa illustrando la parola di Dio tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri sono stati briganti ma le pecore non le hanno ascoltati alla fine la pecora ascolta la parola di Dio non c'è niente da fare tu la pecora se la inganni la puoi ingannare se perché giovane e per un brevissimo tratto perché poi lo Spirito Santo la illumina io sono la porta se uno entra uscirà troverà pascolo il ladro non viene se non per rubare uccidere distruggere ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza stava parlando praticamente della classe come dire sacerdotale anche che farisei e quant'altro che si voleva otorgare il diritto di avere la verità di avere anche la salvezza perché a un certo punto qui però si fa troppo lungo il video a un certo punto noi vediamo che la classe sacerdotale entra nel reame entra nel governare il governare anticamente spettava al lignaggio davidico ai re e quindi i sacerdoti il gruppo levitico non poteva assolutamente invece con i maccabèi e quant'altro praticamente prendono il posto loro e addirittura nel governare utilizzano il sacerdozio il il coen gadol il grande sacerdote e al tempo di Gesù era così come dire messo sotto sopra spiritualmente parlando il popolo che aveva due sommi sacerdoti quando questo veniva grandemente condannato dalla parola di Dio vedete a quanto si arriva e infatti in quel tempo nel tempo di Zorobabele Zorobabele che era del lignaggio non fu noi abbiamo detto che era re ma doveva essere ma non è mai stato riconosciuto re in quanto era stato semplicemente riconosciuto vado a memoria mi sembra governatore però non me lo ricordo perché è tutto improvvisato se ho sbagliato corriggetemi perdonatemi comunque non era stato riconosciuto re e al tempo c'era anche Giuseppe marito di Maria che era del lignaggio eppure lui del lignaggio davitico era un semplice falegname ma chi aveva in mano il potere erano i saducei erano i i farisei erano gli scribi gli erudiani e così via discorrendo il buon pastore depone la sua vita per le pecore cioè il buon pastore non cerca la sua vita non cerca lui di essere di apparire di far vedere quanto è grande quanti quanti lo seguono quante visualizzazioni ha quanti iscritti c'ha nel canale e così via discorrendo no 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 questo lo cercano i ladri i briganti alcuni butindarini e altri che non fanno parte appunto del corpo di Gesù Cristo ma il mercenario non è pastore e a cui non appartengono le pecore vede venire il lupo abbandona le pecore fugge e il lupo rapisce e disperde le pecore infatti i post tribolazionisti che dicono dobbiamo prepararci per passare la grande tribolazione non riescono a sopportare neanche un video contro che subito ti denunciano alle autorità di questo secolo perché non hanno la forza per affrontare la persecuzione perché non si rallegrano della persecuzione cosa che io ho sempre insegnato mi raccomando non denunciate mai perché la Bibbia non dice che non dobbiamo denunciare i fratelli non dobbiamo denunciare proprio chiunque ci perseguita certo se devi mettere a salvo la tua vita che ti stanno a menà quello è un altro discorso quello è pubblico in columnità non mischiamo le cose capito mentre invece loro tranquillamente possono fare 10.000 video su di noi capito e noi se dovessimo rispondere siamo noi che li perseguitiamo vedete quanto sono falsi ipocriti questi alcuni questi di di Giacinto Putindaro post tribolazionista che non dà la faccia perché ha paura perché loro dicono agli altri di avere paura di passare la grande debolazione e loro non riescono neanche a fare nulla sommato loro non danno neanche la faccia come il Butindaro oppure ti minacciano ti portano davanti le autorità e così via discorrendo scusate sto leggendo i messaggi e così via discorrendo ok quindi altro che passare qui la grande tribolazione io torno a ripeterlo saranno i primi che adoreranno l'anticristo quelli che rimarranno qua che Dio li schiampi che Dio abbia pietà di loro noi preghiamo per loro certo ma li denunciamo e quindi abbiamo letto e lo vogliamo rileggere il mercenario non è pastore non appartengono le pecore e quando vede il lupo le abbandona quando la tromba suonerà da qui al 2000 e quant'era 2028 finisce la generazione e noi ci crediamo perché crediamo e se lo sposo tarda perché questo non lo dicono che lo sposo potrebbe tardare loro questo non lo dicono sì comunque sempre di una generazione si parla per quanto possa tardare e quindi di quanti anni può tardare questo solo Dio lo sa e quando la chiesa sarà tolta quelli che rimarranno qua e stavano davanti al popolo e lo ingannavano lo abbandoneranno lo abbandoneranno ma sarà un gran grido di dolore e stridor di denti ora il mercenario fugge sì io sono il buon pastore io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me le pecore del Signore conoscono il Signore e non le potrete mai rubare il fatto è che sono poche ma non le potrete mai rubare mai signor Giacinto Butindaro siete quattro gatti anche se fai vedere le mail dove tu quanti ti scrivono voi non potrete mai rubare le anime del Signore non lo potrete fare Dio non ve lo permetterà Dio vi atturerà la bocca perché già ve l'ha atturata come il Padre conosce me e io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore io ho anche delle pecore che non sono di questo ovile e questi siamo noi nel verso 16 anche quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge un solo pastore e un solo popolo per questo vedete la Trinità signori antitrinitari per questo mi ama il Padre il Padre il Padre non è il Figlio oh sì anche i butindarini si arrabbiano che noi lodiamo il Padre il Figlio e lo Spirito Santo alcuni ma noi siamo trinitari de facto e noi condanniamo il Cattolicissimo e no che condanniamo gli evangelici a prescindere e perché solo perché evangelici e poi ci mettiamo a fare comunella con i cattolici signori butindarini voi siete stati strasvergognati capito quindi la Trinità esiste e noi lodiamo il Padre il Figlio e lo Spirito Santo signori butindarini Giacinto Butindaro che hai dato del massone a David Wilkerson fra le tante cose tra alcune cose che hai detto perché parlava con lo Spirito Santo è un falso è inutile che ti picchi è inutile che ti picchi sono tre e li lodiamo tutte e tre e parliamo con tutte e tre e in alzo la preghiera al Padre nel nome di Gesù per mezzo della potenza dello Spirito Santo e poi fate comunella con i cattolici chiamate Eucarestia la cena del Signore quando c'è il suo nome ben scritto eh signori butindarini nessuno me le toglie nessuno toglierà le pecore al Signore nessuno me le toglie e poi scusate mi sono confuso perché mi sono confuso scusate io sto senso chiaro devo rileggere perché sto dando i numeri con questa Bibbia così scritta piccola verso 17 per questo mi ama il Padre perdonate perché comunque nessuno gli toglie le pecore al Signore questo sta nel contesto Biblico perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo verso 18 nessuno me la toglie ma la depongo da me stesso io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo questo comando ho ricevuto dal Padre mio vedete c'è una Trinità anche rinnegare il Battesimo e con le lingue è antitrinitarismo signori Butindarini chi lo fa perché non posso mettere tutti sulla stessa bilancia perché non li conosco tutti parlo di quelli che conosco allora sorse di nuovo però il grande capo lascia molto a desiderare allora sorse di nuovo una divisione fra i giudei per queste parole e molti di loro dicevano egli ha un demone è fuori di sé perché lo ascoltate altri dicevano queste non sono parole di un indemoniato può un demone aprire gli occhi ai ciechi quindi vediamo appunto che si è concretizzato quello che il Signore ha detto cioè chi ha le mie parole le ascolta chi ama mi segue chi fa parte della mia gregge ascolta le mie parole chi no non le ascolta quindi noi abbiamo visto che appunto si sono divisi in due esattamente come lui ha detto e ancora oggi dopo duemila anni la storia continua ma il tutto si è concretizzato storicamente geograficamente in Gerusalemme davanti la davanti la porta delle pecore e che dava all'atrio dei gentili dove c'erano i cambiamonete e e lì proprio in mezzo i gentili dove tutti confluivano e dove passavano le pecore dove passavano gli emarginati dove passavano coloro che non erano i grandi rettori del popolo e proprio lì passava il Signore Gesù e proprio lì il Signore Gesù Cristo ha dato il suo insegnamento la sua profezia perché lui qui ha profetizzato appunto ha detto che ci sono più greggi ovvero nello specifico due il greggio di Israele il greggio dei gentili e così via discorrendo bene questo è stato il quadro storico e il quadro dottrinale mi dispiace magari se l'avessi fatto a casa avrei potuto mettervi la come si chiama l'immaginetta e casomai poi quando vado a casa lo metto lì in come come si chiama questo è stato il video con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti grazie a Dio il video è andato bene perché non ho dovuto spostare la macchina se il Signore vorrà se non ha rapito la sua chiesa ci vediamo al prossimo videoprogramma Shalom sorridi che Gesù ti ama grazie a tutti